si io vorrei scambiare posso scambiare? no io ho paura di pola ho paura anche se non cosa vuoi per fare? non più che riesca a truffarmi per pola ma cosa che schermo fossimi vuoi dare? o quanti sono? disattivo l'auditoid allora io devo fare io devo regraffitare ok ma quanti schermo fossimi vuoi dare? ma non so no 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 mi fate delle fenisterelle? il pringo posso scambiare insieme a te pringo polas allora mi sto chiedendo guarda quanto raggio che cosa vuoi per il scalo fosse? eh non so polas vieni qui polas 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 che fine ha fatto polas? che cosa vuoi per il scalo fosse? senta che salgo posso vedere una cosa tu quanto hai di raggio pola? ehm 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 sta scambiando un po' non gli ho scambiando e non è più cibo questo è un po' oddio frutto che ci PM ecco ai suoi tutti li non stop 謝謝 mor crimini non Polas, non l'hai visto? no mi è partito, non so così a caso mi è partito il gestico, ho droppato un moto di carne ok ma io siamo a Kinga no, però su Esu no, io ho scommero cioè, io scommero a Kinga scommero ma fra Esu no no, non ho scommero insieme dai, esci Polas non ho scambiato insieme esci Polas esci Polas no oh, devo scambiare anch'io scambio ok, non ho scambiato adesso non ho scambiato quello che non mi interessa questo qua va bene mi sta dicendo al King Polas aspetta fra quando aspetta che vai per me vai là, vai aspetta che vai per me aspetta che vai per me 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 no, King sta insieme a me sta vicino qua King, entra qua dentro ok e quali arma vuoi? quella che emana questa qua aspetta che vado al deposito che ne prendo un'altra ma se l'isola ma se l'isola è di King come fa possa prendere l'altro deposito? è facile si può? si si Peter mi fai salire c'è Peter mi perdono cosa ti puoi dare per quel preta sangue? un'arma non è che la nostra fossa scavo a se non ne dole devo fattare sono molto simulare ecco il due preta sangue no raga chissà sporcando la roba io ho sbagliato ok eccomi ho ripreso l'ho ripreso hola se mi fai salire di cosa ci puoi dare? vieni io questo e questo questo però mi devi dare questa forse mazzo cosa ci puoi dare? questa accendi che è appunto prenda solo che preta sangue cosa? proprio preta sangue no una 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 no una tariff or ma in uno vero per se la c'è capo che troppo tik King apre lui Apre King Può aprire io anche lui No 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 Pietro Pietro L'hai ripresa Ho capito te l'hai ripresa oh Che ho dovuto fare Ok Ho fatto così Vabbè troppo No troppo da mano E' troppo da mano Ho solo questo Ok Vieni Vieni Ma King cosa vuoi fare? King Ah no io non devo Io non devo andare a prendere l'armo King entra Scambiare soltanto voi tu No King entra Io penso che dovessi andare a prendere l'armo King fa quello che ti pare Io sto qua fermo Salto No Ok va bene Fai parte lo scambio Tu non devi saltare Ok Ok Vieni Sto andando davanti Ok Oh 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 Vediamo Mmm interessante Ho notato che hai lo scatto Ho notato che hai lo scatto Siamo scemo Siamo scemo Vado che io l'ho trovato Dai ridroppa quell'armo La riva indietro E' però un'altra arma No quello che hai te in mano prima Il piccone Vabbè Il piccone è salto a posto Si Quello che non lo prima l'inizio Ok Il king va No il king rimane No no esce Salta e rimane No salta e rimane No esce No rimane Non ho fatto niente Non esce il king No il king non esce No il king è il king No il king non è il king Vabbè No Nooo Tuffato E' il mio coglione Dalla bellezza e qui si Dalla bellezza e qui si Chiamico Dalla bellezza e qui si Dalla bellezza e qui si Ho capito Ho capito Pouvell'armo Troppo Qualve vuoi No ho più quell'armo Quello che mi ha troppato prima No 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 un'altra armona con noi idra 130 spade non ne ho allora va bene idra idra 130 grazie adesso ti scambia con king ma bro questo idra è modato gg grazie no ne ho modato no al 62 0 perk dai in almer 62 0 perk il king scambiamo 2 king no no poi io ci lo scatto zitto l'uomo risposta un'altra cosa non mi voglio fare 4.1 4.1 cosiddetti roma io c'ho tante armi dipende che cosa vuoi spade 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 o non andrò a prendere dal deposito ti spiego ti spiego però ti spiego piero mi ha troffato qualche arma cosa è il king e quindi ti ha troffato si è un po' chiaro adesso ci cambia un king ok no non lo voglio ma cosa? non lo voglio ma poi non puro cosa vuoi dire se andare in giro no 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 è tutto il tempo di sparare no 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 Peter sei un truffatore no 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 il king è tutto il tempo di sparare non scappare non scappare che mi interessa va bene che devo stabilizzarmi allora va bene quello lì senza avanti forse che non sia il 12 come te lo posso ottenere alla porta a cui sarà fuori vabbè ci credo dai dai ci credo dai ci credo insomma nooo hai lo scatto ma quello che a me non è una spada questa qui ma non non la voglio cosa dai arriviamo a 122 bravo io non 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 con te non scambio polas 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 a parte gli scherzi Emanuele lo volevi truffare o l'ha rotta lui così giusto per la rotta lui adesso vabbè cambiamo argomento che è meglio si dai scambiate scambiate in questa base a tre io scambiate due eh allora scambiate due ecco la scelta ma posso che sei felice posso che sei felice posso che sei felice posso che sei felice finestrella grazie vediamo tuttanto beh no è normale che c'è uno stegostauro su un balcone è normale che c'è uno stegostauro su un balcone non lo voglio qual è? non lo voglio non lo voglio forza forza io non ho tutta la vita eh no questo eh sì questo è così eh non lo voglio questo è molto raro no no se no 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 fra me mi interessava Pietro mettilo bene all'acqua posso gentilmente chiederti cosa stai facendo? non lo so se no non lo so che cosa mi sicuro che con l'arma fisica non ti do l'arma io non voglio le cose fisiche non lo so io non voglio le cose fisiche cosa vuol dire? no no ma ti ho visto benissimo il king king no king ti sta griffando king ti sta griffando Abbandonate, abbandonate No Ma se fa tutto King No, vabbè Il video finisce qui Ha fatto tutto King E ci vediamo un prossimo video Ciao, ciao